Oh, le orribili pause nazionali. Niente Serie A, niente Champions League, infortuni che sballano la nostra carriera al fantacalcio, ma soprattutto nazionale di San Marino. Perché sì, c'è sempre quella curiosità di capire se il San Marino riuscirà a tornare alla vittoria. E qualche giorno fa San Marino ha pareggiato 0-0 contro il St. Kitts, interrompendo una striscia di 12 sconfitte consecutive, ma soprattutto erano ben 14 gare di fila che San Marino subiva reti. Quindi il ritorno, non solo risultato positivo, ma senza subire gol. La nazionale di calcio di San Marino è stata fondata nel 1990 e in questi più di 30 anni ha ottenuto solamente una vittoria. 18 aprile 2004, questa la data, San Marino 1, lì c'è sta in 0 a deciderla il gol di Selva. Da quel giorno ben 192 sconfitte e decisamente pochi pareggi. E a questo punto, perché non pensare al miglior allenatore al mondo secondo Football Manager? Tanto, Pep, che sarà mai? I colori alla fine sono più o meno gli stessi del Manchester City, quindi non ci sono, non ci saranno problemi. Pep Guardiola, nuovo CT di San Marino, nuove experiment, nuove simulazioni. Vedremo non solo se questa squadra riuscirà a tornare alla vittoria con Pep Guardiola CT, ma soprattutto se riuscirà San Marino a migliorare di molto la posizione nel ranking mondiale. Come nella realtà, dato aggiornato a dicembre 2023, la posizione attuale nel ranking FIFA di San Marino è la 210 posizione. Pep Guardiola, ragazzi, non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo a memoria, così come anche il suo stile di gioco basato principalmente sul possesso palla. Si è passati dal famoso Tiki Taka 4x3 con il Barcellona di ormai più di dieci anni fa, ad un 4x3 sempre basato sul possesso, ma molto più ricercato e studiato, al Manchester City. E nello specifico mi sto riferendo al Guardiola e al City visto nella passata stagione. Quel modulo è letteralmente quello che vediamo da parte di Pep all'interno di Football Manager, la presenza del terzino invertito, la presenza del libero che avanza, ed una squadra, quella del City, che l'anno scorso dava l'impressione di avere un solo elemento per fascia, e quell'elemento non lasciato poi al terzino, all'esterno, che magari lavora tendenzialmente sulla linea del mediana, ma ai due trequartisti, e quindi Bernardo Silva e Foden o Grealish. E qui, come ho detto, i colori sono simili, ma sono decisamente diverse le schede dei calciatori del Manchester City rispetto a quelle dei ragazzi di San Marino, dove, sì, guardiamo diversi profili tra portiere, difesa, centrocampisti e attaccanti, ma una cosa in comune, la scarsa qualità all'interno del gioco, giocatori che dal punto di vista tecnico non hanno da offrire praticamente nulla, e non sono calciatori nemmeno adatti probabilmente per la Serie C. Non voglio mancare di rispetto a nessuno ci mancherebbe, anzi il desiderio e l'augurio che Pep possa effettivamente portare un netto miglioramento a questa rosa, però volevo comunque farvi notare, anche se probabilmente non ce n'era bisogno, l'esagerata differenza che c'è tra questa squadra, tra questa nazionale, ed il Manchester City, squadra che appunto nella realtà sta allenando il buon Pep Guardiola, ma soprattutto una totale incompatibilità sulle richieste di Pep rispetto poi alle qualità dei calciatori che si ritrova in rosa. Stile tattico, tiki-taka, mentalità di gioco, offensiva, tipologia di pressing più spesso e una marcatura che va ad essere un mix tra quella zona e quella uomo. Colombo tra i pali, difesa a quattro formata da Tosi, Magi, Palazzi e Fabri, sulla mediana Matteoni, in mezzo al campo Battistini e Lazzari, sulla tre quarti, fascia sinistra per Vitaioli, fascia destra per Berardi, la davanti, unica punta, Erling, Holland, Nanni. 2023, come nella realtà, un po' da dimenticare per San Marino, sappiamo, sapevamo di un girone molto difficile per la qualificazione agli europei, sono uscite fuori solamente sconfitte, anche se in tutto questo va segnalato il gol di Liverani, che come nella realtà non ha segnalato Liverani, ma comunque sia a illuso, perché c'era stato il momentaneo pareggio contro la Danimarca, partita poi persa per 3-1. Stesso gol, ma questa volta lo trova Bon Bernanni nella partita di ritorno, perché il 21 novembre 2023 San Marino ha perso con lo stesso entico risultato della partita andata sempre 3-1 per la Danimarca, ma questa volta, al primo minuto, alla prima occasione, è San Marino a portarsi in vantaggio. 2023, quindi, che ha visto San Marino non ottenere nemmeno un pareggio, nemmeno un risultato utile, nonostante la presenza di Pep Guardiola da CT. Ci può stare, assolutamente sì, differenza esagerata, enorme rispetto agli avversari affrontati. Il 2024 porta San Marino ad affrontare le seguenti nazionali, all'86esima posizione del ranking, la nazionale del Kosovo. Continua poi la sfida infinita con la nazionale dell'Andorra, che occupa attualmente la 173esima posizione nel ranking. Segue poi un'altra sfida molto sentita, quella con Malta, per vendicare quanto è successo con l'Italia, San Marino contro Macedonia del Nord. Ritroverà Malta e Andorra nella Nations League, sarà invece un'amichevole quella contro l'Estonia. 26 marzo 2024, letteralmente quasi 20 anni dopo l'ultima vittoria di San Marino ottenuta contro l'Estonia per una rete a zero. Si è subito zero gol, zero gol subiti da San Marino, clean sheet, quindi o pareggio o vittoria. Ma 26 marzo 2024, 20 anni dopo, Lorenzo Capicchioni al minuto 60 e 5 minuti più tardi Matteo Vitaioli al minuto 65. San Marino 2, Andorra 0. Questo il totale dopo il novanteso minuto. Lorenzo Capicchioni, centrocampista destro, centrocampista centrale. Questa la scheda di uno degli eroi di San Marino. Questa la scheda di Vitaioli. Non ce l'ha fatta ragazzi, non ha resistito, non ha retto l'emozione, ha detto io voglio lasciare così. Segno il gol decisivo per la vittoria della mia nazione e lascio il calcio. Grande Vitaioli, grande Matteo. La vittoria con l'Andorra ha cambiato la storia della nazionale di San Marino. Non solo abbiamo assistito al ritiro prematuro di Vitaioli, ma soprattutto a un 2024 quasi perfetto, ma oserei dire leggendario per la storia di questa nazione. Tre sfide contro Malta tra Nations League e amichevole. La prima amichevole nel 7 giugno 2024 è di nuovo trionfo San Marino. due reti a uno a segno Nanni e Badalassi. Segue poi una sconfitta senza storia contro la Macedonia Nord, abbastanza facile da pronosticare come risultato. Segue poi la Nations League e di nuovo contro Malta, ma questa volta non è solamente vittoria, ma è anche vittoria senza subire gol, ma soprattutto una vittoria lontano dalle muramiche. E teoricamente questa rappresenta la terza vittoria nella storia di San Marino, ma la prima in trasferta. E quindi direi che un altro quadretto per Luca Ceccaroli bisogna assolutamente dedicaglielo. Da segnalare anche il 2-0 contro l'Estonia, e secondo me va evidenziato questo splendido risultato, perché stiamo parlando di una squadra che occupa la 125-5 posizione in ranking, quindi decisamente tante posizioni di differenza, soprattutto tante rispetto anche a quelle di Malta e Andorra. Molti penseranno, beh, queste vittorie analizziamole un attimo. San Marino probabilmente le ha ottenute per pura fortuna, con pochi tiri, l'unica occasione magari da rigore. No, assolutamente no, perché San Marino-Andorra, altra vittoria in Nations League, ha visto San Marino strameritare, stradominare l'avversario sotto ogni aspetto, sia dal punto di vista dei tiri, ma anche e soprattutto sul possesso del pallone. Qui si parla di un 67 contro il 33% di possesso palla. E finalmente ci ritroviamo come gioca Guardiola, in che posizioni vengono utilizzati i ragazzi, i protagonisti della nazionale di San Marino. Non sono effettivamente le stesse posizioni di Manchester City. Un passo indietro, almeno sulla posizione, poi probabilmente lo stile di gioco è lo stesso richiesto dal City, ma non c'è la presenza del terzino invertito, non c'è la presenza del libero che avanza, non abbiamo la presenza di attaccanti esterni o ali invertite, ma qui terzini puri, difensori puri, mediano puro, due centrocampisti centrali, due ali e un centro avanti. Si gioca semplice, ma non troppo, ma a prescindere è uno stile di gioco efficace che ha portato di nuovo al successo la nazionale di San Marino. Un grosso enorme peccato la sconfitta interna contro Malta, inaspettata pensando a come era finita l'andata e soprattutto decisiva, letale, in termini poi di classifica. Sappiamo la Nations League essere davvero maledetta, non si può sbagliare praticamente nulla, viste le poche squadre, viste anche i pochi confronti. Malta trionfa per tre reti a uno in una partita comunque sia molto equilibrata, dove probabilmente il risultato più corretto sarebbe stato il pareggio. E quindi se anche poi la preta con l'Andorra ritorno è stata pienamente meritata, altro trionfo in trasferta lontano da San Marino, la situazione finale del gruppo D di Nations League vede alla fine Malta, grazie solo alla differenza reti e naturalmente anche alla questione sconti diretti, ottenere poi la promozione con nove punti, gli stessi però di San Marino. Poi sappiamo bene che questo risultato non porta a nulla, perché alla fine Malta non va poi a giocarsi la fase finale del torneo, ma comunque sia è una soddisfazione personale che purtroppo per Pep manca in questa edizione della Nations League. Però è stato comunque un 2024 fantastico, leggendario per la Nazione San Marino e abbiamo anche la soddisfazione di un piccolo miglioramento di classifica nel ranking FIFA, dalla 210ma posizione alla 209esima. Un 2025 è davvero molto complicato, perché si affrontano squadre che occupano una posizione molto alta nel ranking FIFA, anche se all'inizio non è così, perché si affronta la Moldavia. Stiamo parlando di qualificazioni al Mondiale 2026 e, come è giusto che sia, si affrontano squadre davvero molto forti, tra queste il Portogallo. Seguo poi la Nazionale del Montenegro, l'Austria di Oliver Glasner e chiudiamo con il Galles, capitanata da Aaron Ramsey. Difficile, complicato, tre risultati positivi. Pareggio contro la Moldavia, pareggio col Montenegro, vittoria col Montenegro, Montenegro praticamente che non è mai riuscito a battere San Marino. Badalassi e Berardi dal dischetto a deciderla nel 2-1 contro la squadra Montenegrina. E primo risultato, anche qui parliamo di storia, di scrivere una pagina importantissima per la Nazionale di San Marino, perché è la prima vittoria contro una squadra che è nella top 100 per posizione nel ranking FIFA. Dato simpatico, il nostro Erling Holland, il nostro buon Nicola Nanni, perché al minuto 12, Portogallo 0, San Marino 0, calcio di rigore, un episodio che porta il rigore per il San Marino che viene sfruttato a dovere dal nostro buon Nicola Nanni, che lì, felice, contento, ha replicato la risultanza di Cristiano Ronaldo in terra portoghese. Tutto questo durato attimi, istanti, perché poi c'è stato l'immediato pareggio e i successivi gol che hanno portato al netto trionfo portoghese per 4-1. Però questi sono i risultati che pesano e San Marino, in tutto questo, supera diverse posizioni in classifica, perché ci siamo lasciati con una 209 posizione in classifica, nel ranking, ci ritroviamo con la posizione numero 202 e per alcuni momenti, per alcune settimane, addirittura nella 201esima posizione. Un aspetto positivo di questa nazionale è che, come nella realtà, è un gruppo abbastanza giovane, sono veramente pochi gli elementi over 30 presenti nella rosa. E questo è un grosso vantaggio per Pep Guardiola, perché può fare affidamento sugli stessi nel corso, poi, delle diverse stagioni. E venendo a mancare completamente la concorrenza, Guardiola è costretto a chiamare sempre gli stessi, e se questi stessi giocatori sono comunque molto giovani, questo è un grosso vantaggio. Per quanto banale, bisogna comunque dire che San Marino non ha ottenuto la qualificazione al Mondiale Stati Uniti-Messico-Canada nel 2026. Ottiene, tristemente, come sempre, l'ultima posizione in classifica, però con quell'illusione di finire penultimi, perché ultimi sì, ma pari punti con la Moldavia. Ci stiamo abituando bene. Ormai ho perso il conto del numero di vittorie con Pep Guardiola alla guida di San Marino, ma vediamo, un 2026 decisamente positivo, sono solamente due le sconfitte su diversi incontri contro l'Israel Faroer e contro la Georgia. Sono invece quattro vittorie e due pareggi tra amichevoli e Nations League. Sempre più bomber, sempre più capocannoniere, Nicola Nanni. A fine simulazione vedremo anche il totale dei gol realizzati dal nostro attuale miglior marcatore del San Marino, ma una qualificazione alla Nations League che manca anche in questa stagione e questa volta sono diversi i punti di differenza dal primo posto. E alla fine sì, doveva succedere. Affrontiamo i primi nel ranking nel 2027 sette qualificazioni per Ero 2028, San Marino contro Francia. Sempre nella top 100 affronteremo la Bosnia, 98esima posizione la nazionale dell'Armenia e chiudiamo con la Bulgaria all'ottantatresimo posto. Tutte squadre top 100, troviamo anche la migliore al mondo, la Francia, e non otteniamo nemmeno una vittoria, come giusto che sia. Con la Francia nulla da fare, sia la partita d'andata in casa nostra con uno stadio Sarcolmo, 5500 persone che hanno tifato San Marino, 34.000 e passa al ritorno in Francia, ma i francesi trionfano nettamente per 4 reti a 0. In tutto questo otteniamo solamente due punti, però pareggio con l'Armenia e pareggio con la Bulgaria in entrambi i casi senza subire gol. Nonostante le sconfitte, nonostante le zero vittorie in 2027 è da ricordare perché porta un ulteriore miglioramento nella posizione del ranking, in questo momento al 190esimo posto. 2028 tra amichevoli e la nostra competizione preferita, la Nations League dove ancora una volta riusciamo ad ottenere tante vittorie ma per l'ennesima volta non riusciamo ad ottenere la qualificazione. Purtroppo decisiva la sconfitta contro l'Azerbegian per 4 reti a 0 questo risultato non ci permette naturalmente di poter ottenere la prima posizione a pari punti sì, ma come è stata per la prima edizione di questa simulazione a fare la differenza gli sconti diretti. San Marino però deve essere orgogliosa perché alla Juventus torna il nostro portiere ritorale Edoardo Colombo nato a Ravenna naturalizzato poi San Marinese in realtà Colombo parlo di ritorno perché è già stato allo Juventus nella stagione di 17-18 ma viste probabilmente le sue ottime prestazioni sia con la maglia del Rimini e soprattutto con la nazionale di San Marino a parametro 0 la Juventus ha deciso di puntare nuovamente su di lui e di schierarlo nella Juventus Next Gen il 2029 è un anno tragico per la nazionale di Pep Guardiola ormai eravamo abituati benissimo in realtà questo è una situazione un contesto uno scenario normale che vediamo praticamente ogni anno per la nazionale di San Marino però in questa simulazione sinceramente ci eravamo abituati bene con almeno un po' di pareggi con qualche vittoria non c'è mai stato praticamente la stagione del 2029 per la nazionale di San Marino per via delle qualificazioni mondiali e anche per gli amichevoli non ha portato nemmeno un pareggio ma solo le sconfitte nonostante questo però la squadra ha comunque grazie alle prestazioni ottenuto un miglioramento nella posizione del ranking perché parte di questa stagione l'abbiamo vista addirittura alla 182esima posizione per poi chiuderla ma va comunque bene perché si tratta di un netto miglioramento alla 184esima vi ricordo che siamo partiti e la realtà dice che il San Marino attualmente è nella 210ma posizione i discorsi motivazionali di Pep li conosciamo alcuni davvero iconici beh probabilmente sono stati fatti a fine 2029 o a inizio 2030 reagire ragazzi un anno completamente negativo mi aspetto un anno assolutamente pienamente positivo e così è stato perché a sto giro una sola sconfitta contro il Kazakistan ma è namichevole quindi anche meno amara perché poi sono solamente trionfi sono solamente risultati positivi nella Nations League e finalmente dopo anni di tentativi San Marino ottiene il suo miglior risultato in assoluto in una competizione UEFA primo posto nel gruppo D della Nations League e qui proprio lo vediamo questo grafico bam tutto in salita 179esima posizione nel ranking risultato leggendario con un solo ed un unico grande grandissimo protagonista l'eterno l'immortale ormai trentenne Nicola Nanni 93 presenze con la Nazionale di San Marino 28 gol nel 2031 si chiude definitivamente il rapporto di Guardiola e la Nazionale di San Marino la posizione finale nel ranking rimane la 179esima con però un momento un periodo in cui San Marino è stata addirittura la 178esima posizione nel ranking e come nel 2029 sono solo sconfitte ma come giusto che sia dal momento che si sono affrontate solamente squadre che rientrano nella top 100 unico gol nell'anno 2031 solamente un gol per San Marino chi lo fa sempre lui Nicola Nanni Guardiola col San Marino ha ottenuto gli stati fantastici che rimarranno impressi al popolo san marinese per tantissimi anni e sono oggettivamente stati i migliori della storia di questa nazionale ma un dato particolare il fatto che non si è riuscito a superare la 117a posizione e miglior posizione nel ranking della storia di questa nazionale ottenuta nel 1993 c'è però da considerare che erano passati solamente tre anni dal debutto di questa nazionale al mondo del calcio quindi probabilmente una classifica anche compromessa proprio da questo aspetto la miglior vittoria della storia di San Marino è il 3-0 contro Gibilterra nel settembre 2028 e come peggior sconfitta rimane quella ottenuta nella realtà contro la Germania nel 2006 ma veniamo ai dati quelli golosi a quelli di Nicola Nanni che si prende tutto perché è il miglior calciatore per reti segnate in una stagione 3 nel 2024 il miglior calciatore per reti segnate in una partita 2 nel pareggio 2-2 contro Lussemburgo ma attenzione perché in un solo gol ma anche assist in una stagione il migliore Tosi con ben 2 e un pensiero anche per l'attuale portiere della Juventus il nostro portierone Edoardo Colombo 2 clean sheet in una stagione non solo gol non solo assist e non solo clean sheet ma anche parliamo di voti media voto 7-53 4 presenze miglior media voto per Andrea Mularoni insomma Pep ce l'hai fatta di nuovo hai di nuovo scritto la storia sei riuscito nell'impresa di far risorgere completamente una nazionale destinata quasi al fallimento spero abbiate apprezzato questo video ma soprattutto ragazzi fatemi sapere se avete mai provato un'avventura o nel campionato san marinese o allenando proprio la nazionale di San Marino e soprattutto voglio i racconti della vostra carriera qui sotto nei commenti ci vediamo in un prossimo video quindi ciao a tutti ragazzi